Domani pomeriggio alle 17.30 arriva il Carilli il Vicenza per il Piacenza Calcio. Mister, uno dei tanti scontri affascinanti di quest'anno e soprattutto contro una squadra lanciatissima che è seconda in classifica. Beh sì, è una partita sicuramente affascinante per la storia, una delle tante, come hai detto tu, di questo campionato. È una squadra che è stata costruita per stare davanti, ha ingranato soprattutto nelle ultime partite la marcia giusta e sappiamo che si aspetta una partita difficile. Una partita tosta soprattutto per l'attacco del Vicenza, molto temibile. No, ma in generale è una squadra completa, è una squadra molto esperta, molto solida. Non è solo un reparto, ma è una squadra che è stata fatta nella rosa per voler primeggiare sicuramente questo campionato. E di Piacenza da dove riparte? Sicuramente dal bel primo tempo di domenica scorsa. Io credo che nelle ultime quattro partite abbiamo fatto grandi prestazioni. Nelle prime tre sono arrivate anche risultati importantissimi, domenica c'è mancato solo quello. Qualche disattenzione ci è costata caro, soprattutto su palli inattivi, ma sul piano del gioco direi che abbiamo fatto tanto, abbiamo prodotto tanto, abbiamo giocato un'ottima partita. È chiaro che bisogna abbinare anche il risultato, altrimenti col gioco e basta si va poco lontano. Passando alla formazione, non ci sarà Del Favero convocato in nazionale. In attacco c'è questo dubbio Papponi? Sì, vedremo Papponi convocato, vedremo domani fino all'ultimo momento se schierarlo o meno. però gli altri siamo tutti a disposizione, quindi la rosa è al completo e siamo comunque molto fiduciosi.